Il prossimo pezzettino è anche l'ultimo e ci fa piacere farlo in compagnia di un nostro vecchio amico. NAPOLI! Tutto a posto? NAPOLI! 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 di più, c'è chi crede di essere più di ciò che appare, è chi vuole apparire più di qualche, io invece no, io invece no, sono come tu mi vedi, esattamente come tu mi vedi. C'è chi gioca al nascondino, dietro un dito, e poi vuole apparire quello che vuole, io invece no, dietro un dito, proprio non ci sto, c'è chi gioca a fare il vino con dell'acqua, e mi vuole dare a bere quello che non c'è, io invece no, sono come il vino, non me lo verrà. Io sono come tu mi vedi, esattamente come tu mi vedi, non c'è molto di più, non c'è molto di più, sono come solo e non c'è niente di strano, se mi trovo molto spesso a guardare lontano, è una sorta di t, una specie di indecenza che pilota lo sguardo e distoglie l'attenzione da ciò che indosso e come appaio, da ciò che indosso e come appaio, il mio medico dice che dovrei fare attenzione a ciò che smendo e a ciò che mangio, ma io non me ne curo, non me ne frego nemmeno. Io sono come tu mi vedi, esattamente come tu non prevedi, non c'è molto di più, non c'è molto di più, io sono come tu mi vedi, come tu non prevedi, non prevedi, non c'è molto di più, non c'è molto di più. Ciao, alla prossima! Fisca! 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 Fisca e Piano Pelù! Fisca! Fisca!